E ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia. Giulia in apertura. Torniamo a Bordenone per parlare di quel giovane che si trova rinchiuso in un carcere dello Sri Lanka. Proprio negli ultimi giorni la mamma ha lanciato l'appello e ha gridato tutta la sua paura, il timore per il figlio rinchiuso in questo carcere. Ora si muove, la Farnesina sta puntando a riportare a casa il nostro concittadino. Sentiamo allora quali sono le ultime novità nel servizio di apertura del nostro telegiornale. Il Ministero degli Esteri è venuto a conoscenza del caso che riguarda il 33enne pordelonese Antonio Consalvo, detenuto nel carcere di Negombo, città affacciata sul mare della costa occidentale dello Sri Lanka dallo scorso aprile. E ora la Farnesina ha attivato i canali diplomatici con il paese insulare del subcontinente indiano, con l'obiettivo di riportare in Italia, con salvo, il pordenonese in carcere perché dieci mesi fa, tornando dalla Thailandia durante uno scalo a Colombo, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. L'iniziativa diplomatica è partita da Pordenone. Il sottosegretario all'Ambiente, leghista Vanni Agava, ha contattato sia la madre del 33enne, Graziella Catania, che è l'omologo agli esteri, Guglielmo Picchi. Ora quindi della vicenda se ne occupa il governo. Vogliamo aiutare la madre e il ragazzo, ha detto Gava, e come prima cosa desideriamo mettere in contatto la famiglia con il detenuto. Prendiamo contatti con la Farnesina e iniziamo a capire a che punto è il processo, per poi lavorare al fine di riportare il nostro concittadino in patria. L'input è arrivato all'entourage del sottosegretario agli esteri, leghista Guglielmo Picchi. Nei prossimi giorni lo incontrerò, ha assicurato Gava, e cercheremo di capire i prossimi passi. Luca Ciriani, senatore di Fratelli d'Italia, presenterà invece un'interrogazione ai ministri di Esteri e Difesa. Vagna Gava ha contattato anche la madre di Antonio Consalvo. Le ho chiesto di fornirmi tutti i dettagli della storia, in modo tale da poter agire con in mano la maggior parte delle armi che abbiamo a disposizione. Grazie alla Catania, che non ha notizie del figlio ormai da tempo e non riesce a contattare telefonicamente l'avvocato, da ormai diversi settimane ha ringraziato Gava per l'interessamento e ora rimane in attesa. Fortunatamente qualcosa si muove, ha detto la donna, e sono l'infrancata soprattutto dall'interesse suscitato sulla storia che ho voluto raccontare. Rimango cauta perché ormai da mesi, sento che mio figlio dovrebbe uscire dal carcere a breve. La madre di Consalvo ha parlato di una detenzione in condizioni disumane, con i detenuti costretti a organizzare dei turni per occupare lo spazio a terra e trovare un posto per dormire. Parliamo di autonomie locali in regione, arriva l'ok al sostegno famiglia e anche la rimozione dell'amianto, un'opportunità per cercare di limitare sempre più questo amianto dal territorio. Assessore, il regolamento per la concessione di contributi per la rimozione dell'amianto ha ottenuto all'unanimità parere favorevole del CAL, uno strumento utile per gli enti locali. Sì, è quello che facciamo, andare incontro alle esigenze dei cittadini, quindi dei sindaci, che sono i primi cittadini dei comuni, andiamo a dare dei contributi affinché loro possano intervenire sulle abitazioni, sui terreni, sulle proprietà dei privati e possano togliere l'amianto, dopo aver fatto un'ordinanza ovviamente in concerto con le aziende sanitarie, nella tutela della salute dei cittadini e quindi mettere a disposizione dei fondi affinché questo possa essere fatto agevolmente dai comuni. Ovviamente questi fondi verranno incrementati laddove e quando saranno richieste maggiori risorse economiche e questo è un primo passo per quello che sarà anche un ulteriore, immersa anche in questa riunione, aiuto nei confronti dei comuni e dei cittadini, anche nei confronti di altri tipi di iniziative, penso, ed è emerso agli alberi che possono cadere sulle strade e quindi creare dei danni alle persone e alle cose, laddove i comuni non hanno le risorse economiche per poterlo fare. Andiamo a Barchis per vedere un lago come non si è mai visto, il bacino è in secca, sul fondo migliaia di alberi, un lago davvero scomparso. Andiamo a scoprire il perché, guardiamo queste immagini. Il lago Aprilis che si affaccia sulla località di Barchis è quasi completamente in secca. Si è passati dall'allarme maltempo del 31 ottobre, con centinaia di metri cubi e il secondo rilasciati a valle, a una situazione di siccità quasi senza precedenti in questo periodo dell'anno. A generale i problemi sono stati dei fattori concomitanti. Da prima il rilascio programmato dell'acqua per poter avere una maggiore capienza in vista della stagione invernale, dopo l'alluvione autunnale. Le autorità hanno quindi usato il bacino come riserva idrica, circostanza che ha scongiurato problemi seri anche nell'ultima perturbazione di gennaio. Contemporaneamente si sta provvedendo a realizzare dei lavori di minutazione straordinaria alla diga di Ravedis. I tecnici stanno quindi predisponendo le fasi preparatorie alle modifiche della prima paratoia. Si tratta di un'operazione attesa da anni, grazie alla quale il bacino artificiale potrà finalmente acquisire la piena funzionalità. Se gli ingegneri saranno soddisfatti delle modifiche apportate a questa paratoia, entro fine anno si procederà alla stessa operazione anche sulle altre due. Nel frattempo il livello dell'acqua è stato abbassato notevolmente e si potrà pensare di invasare nuovamente soltanto dalla fine del mese di marzo. Ovviamente il problema principale per Barchis è la siccità dell'inverno 2019. Non è praticamente mai piovuto e così nell'invaso sono rimasti soltanto migliaia di metri cubi di tronchi di albero abbattuti dalla tromba d'aria di ottobre, che tra l'altro sembrano influire pure sull'odore e il sapore sgradevole dell'acquedotto di Aviano, che approvvigiona. Non ci resta che stare con il naso all'insù, la prende con filosofia il presidente del consorzio di bonifica Cellina Meduna Ezio Cesaratto, ma ce l'ha ando una notevole preoccupazione per quanto accadrà in prospettiva. Attendiamo di capire se le previsioni per il prossimo fine settimana saranno confermate. È stata annunciata pioggia. Le precipitazioni sono fondamentali, perché non c'è altra possibilità di innalzare il livello del lago, da cui dipende la capacità in rigua per i mesi estivi. Non c'è altro da aggiungere, se non che la pulizia dell'invaso non è più procrastinabile. In origine aveva una capacità di circa 20 milioni di metri cubi d'acqua. Con il trasporto di materiale solido verso valle siamo arrivati a circa 8, forse ancora meno, dopo quanto accaduto in autunno. È chiaro che il problema non riguarda più soltanto la regolare apertura della 251 a nord dell'abitato di Barchis, dove il fiume Cellina è tornato pericolosamente a scorrere vicino alla sede stradale, ha concluso Cesar Atto, ma incombono delle incognite anche sulla capacità di rifornire gli acquedotti e i canali in rigui della pianura prodenonese. Ora andiamo in provincia di Udine a Colloredo. Sono partiti gli ultimi lavori per il ripristino del castello. Sui raffestimenti ci arriviamo verso l'ultimo atto di recupero, dell'ultima grande opera da ripristinare alla fine del terremoto, la ricostruzione fisica del Friuli. Sì, in effetti con l'inizio della ristrutturazione del masto del castello di Colloredo siamo il dunque. Siamo il dunque vuol dire che stiamo finendo un'opera imponente, sia dal punto di vista visivo, ma dal punto di vista degli spazi, ma anche dal punto di vista finanziario. Io mi ero impromesso che in finanziaria trovavo gli ultimi 7 milioni per la fine di questa opera, grazie al Consiglio che mi ha seguito, è stato votato, quindi sono orgoglioso anche di portare questa notizia e quindi di cominciare questo lavoro. La sfida che attende ora questo castello quando saranno ultimati i lavori? Assolutamente quella dell'uso. Questa è la cosa più importante in assoluto, cioè una volta finita l'opera sapere cosa fare, soprattutto sfruttare, tra virgolette, questa bellezza che c'è in centro del Friuli, mi pare che sia fondamentale per il territorio locale, ma anche per tutto il nostro Friuli-Venestia e Giorgio. Presidente Zanin, la consegna di questo lotto è una tappa importante verso la conclusione di un grande recupero? Sì, oggi comincia la parte finale di questa grande alleanza che c'è stata nel tempo tra amministratori, privati, professionisti, maestranze, che hanno fatto sì che la parte conclusiva della ricostruzione post-teremoto oggi possa prendere l'avvio proprio per concludersi definitivamente. È un simbolo, è il simbolo del castello di Coloredo, della nostra comunità regionale, è il simbolo anche, voglio dire, di questa ricostruzione realizzata. È un orgoglio che deve farci ben sperare per il futuro anche di questo Friuli, perché è un Friuli che quando fa le cose riesce a farle, anche le cose così complicate, come mettere insieme la ricostruzione di un castello che ha quasi 40.000 metri cubi, quindi un investimento importantissimo e adesso la sfida futura sarà quella che con le amministrazioni, la parte regionale, ma anche la parte privata e tutti i cittadini immaginiamo come poterlo riutilizzare. Il castello non deve diventare un museo, ma deve essere qualcosa, deve essere una realtà vivibile nella quale dentro ci portiamo la vita, anche attraverso attività pubbliche e private che possano in qualche modo farlo diventare un punto di riferimento per questa stupenda e bellissima regione che Ippolito Nievo diceva, il piccolo compendio dell'universo. I nostri servizi, i nostri live, come sempre sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione e torneremo con altre news nel corso della giornata. Buon proseguimento con la nostra rete e a risentirci. Alla prossima!